la prima volta che vi giocate la storia si dice che sarete in normal mode c'è una sigla che lo identifica, nvhm, e cioè normal vault hunter mode dove quel vh sta per vault hunter, cacciatore della cripta e in questa modalità il livello dei nemici, del loot, cioè delle armi che troverete degli oggetti, qualunque cosa, non scala insieme al personaggio cioè mentre il personaggio aumenta di livello, se voi tornate indietro sulle prime mappe quelle offrivano elementi a livello 1, saranno ancora a livello 1 quindi non vale la pena fare i bulli, tornare col personaggio a livello 20 nelle prime mappe sperando poi di droppare la leggendaria di quel boss, di quella mappa a livello 20 no, la dropperete a livello 1 ecco perché non ha senso esagerare con il farming, sarebbe tempo perso e c'è però il grosso vantaggio che se non riuscite a superare un mini boss potete comunque lavorare per far crescere il livello del vostro personaggio e sopravvanzarlo di quel paio di livelli dove di solito poi non ci saranno problemi a far fuori qualunque boss non ci sono problemi a fare qualunque tipo di missione secondaria spiego meglio molte, per fortuna, molte missioni secondarie danno come ricompensa un cosiddetto oggetto blu unico tosto di solito, alcuni oggetti blu unici sono tra le armi più forti dell'intero gioco per intenderci ma se poi non ci fosse la possibilità di ridropparli a un livello più alto fare la missione che ti dà quell'oggetto a livello 10 sarebbe sprecato ma per il primo playthrough non c'è problema tanto sicuramente comincerete un secondo playthrough e a un nuovo playthrough corrisponde la possibilità di ripetere le stesse missioni quindi giocate tranquilli ma in ogni caso l'NVHM è il gioco tranquillo gioca senza tanti pensieri, non pensare a tutti i marchi in gioco arriva la fine e poi ci pensiamo su un attimo il livello massimo che si può raggiungere è circa 35 non ho mai provato a spingere a paletta mi è capitato di battere il boss finale con Salvador perché vabbè lui anche se non ricordo male con Salvador a livello 27 ma iniziando a giocare nel 2023 avrete anche a disposizione d'un botto anche tutti gli altri DLC diciamo storia per fortuna perché sono bellissimi con che ordine giocarli? non quello con cui appaiono in elenco nel gioco troppo facile in un tecnologico il primo DLC è quello di Capitan Scarlet poi quello di Torg poi Hammerlock e infine quello di Tiny Tina stupenda chiusura in bellezza non ce l'avete? comprateli ad hoc chiusi, cementati per dire il gioco principale contiene soltanto un raid boss come mettervi alla prova questi DLC ciascuno ha uno o più raid boss senza non potreste neanche ottenere alcuni degli oggetti e delle armi più potenti dell'intera saga vi perdereste nuove tipi, nuove classi d'armi anche oltre leggendario poi da verificare se sono davvero più potenti però certamente potentissime le cosiddette armi perlace poi una via di mezzo con le leggendari le armi rosa, serafine insomma dicendo che in realtà varrebbero la pena anche solo per quanto sono belle e divertenti se poi ci aggiungete anche tutto questo fatevi voi quattro conti tutto quello che ho già detto riguardo il level cap le missioni secondarie rimane valido anche per questi DLC e anche quello che dirò dopo per gli altri tipi di playthrough oltre il primo è comunque utile sapere che mentre per i primi due Scarlet Thorn il livello entry d'ingresso è 14-15 cosa vuol dire? se centrate quando il vostro personaggio è livello 2 e si potete iniziarlo ma troverete i nemici a 14-15 che vi apriranno in 7 non in 2 inoltre conviene giocare gli ultimi due Hammerlock e Tiny Tina dopo aver finito il gioco perché ci sono degli spoiler anche piuttosto grossi quindi è meglio non rovinarsi l'esperienza e la storia insomma e forse anche per questo l'entry level è 29-30 praticamente dopo aver finito il gioco allora si fanno questi altri due DLC infine per quanto riguarda DLC storia un gruppetto di piccole chicche da qualche euro fin troppi ciascuno non se ne ricordo male sui 5 euro direi che di questi un paio valgono sicuramente la pena Marcus perché alla fine abbiamo la possibilità di avere in modo costante un rifornimento di oggetti a alto livello leggendari soprattutto e anche l'ultimo Hammerlock e il filo di Cromeras ha delle casse favolose a fine DLC quello è troppo bello Torg ci guiderà in mezzo a delle demenziali avventure e anche qui in fondo abbiamo delle discrete casse chiedo aiuto magari ai veterani gli altri non mi ricordo se hanno degli oggetti che da soli valgono la spesa sono comunque tutti molto divertenti per cui cosa volete mai ormai 4-5 euro d'accordo anche se magari vi garantiscono soltanto un paio d'ore di gioco secondo me sono ben spesi per tutti questi il livello è deciso al momento in cui entrate quindi se entrate nel giorno del mercenario di Marcus che avete il livello 18 ok troverete robe a quel livello e allora per questo il mio consiglio è scegliete il momento giusto non bruciatevi tutti di fila arrivate a un punto del gioco principale dove avete bisogno di un buon armamento fate fatica a trovarlo ok giocatevi allora a Marcus il giorno del mercenario o uno degli altri comunque non c'è un ordine determinato più o meno come vi pare per questi adesso ascoltatemi bene se siete principianti avete cominciato da poco il vostro primo playthrough la parte che adesso segue diventa davvero una pizza forse vi conviene saltarla guardare se c'è in fondo vedo se ce la faccio una parte di gameplay con i primi consigli e poi tornare su questo video quando avrete finito una prima volta il gioco o io vi avvisate se voi preferite avere fin da subito una programma completa non c'è nessuno spoiler non è quello è che proprio sto a spiegare i vari DLC che si possono avere o scaricare cosa fare cosa non fare decidete voi io vi avvisato battuto il boss finale si potrà ricominciare una seconda volta l'intera storia con un secondo playthrough e saremo in modalità True Vault Hunter Mode TVHM anche durante questa seconda partita i livelli dei nemici degli oggetti sono legati alle mappe e il massimo livello che potete portare il personaggio è più o meno 50 durante questo secondo playthrough conviene non fare le missioni secondarie se no in modo mirato poi vi spiego man mano finire la storia il più rapidamente possibile senza tentare poi di portare il personaggio per forza fino a 50 scaricarsi e installarsi se non l'avete già il DLC che attiva la cosiddetta modalità UVHM sottolineo gratuito vi permetterà di ripartire una terza volta con la storia quindi finite il prima possibile il secondo giro in TVHM non fate le secondarie poi appena possibile partite con un terzo giro in UVHM di nuovo aspettate a fare le missioni secondarie finché non sarete a livello 50 perché in UVHM tutti i nemici e il loot e gli oggetti le ricompense invece scaleranno al livello del vostro personaggio inizialmente partendo con l'UVHM non sarete ancora a 50 quindi aspettate un pochino appena arrivati a 50 a quel punto se la vostra idea è di fermarsi a 50 fate pure le missioni secondarie per ottenere gli oggetti al massimo livello ma per farsene cosa direte voi tanto ormai non andremo oltre 50 e beh occhio con alcuni oggetti blu unici diventa molto più facile fare i raid boss che magari vi hanno sbattacchiato fino a quel momento equipaggiati con alcuni oggetti blu unici davvero potreste tornare dai raid boss e sbattacchiarli voi beh poi finalmente potrete giocarvi le missioni secondarie che sono anche carine e divertenti ci mancherebbe se invece l'idea è quella di portare il personaggio oltre il livello 50 dovrete prima acquistare a meno che l'avete già nel bundle il dlc che alza il level cap a 61 è un altro possibile stop al che vorrebbe dire spostare il ragionamento da 50 a 61 aspettare a fare le missioni secondarie finché si è arrivati a 61 e poi via e una delle molle principali per volerlo fare sapete qual è? è che vi danno altri punti skill vuol dire che come sarebbe bello poter completare anche il secondo albero come sarebbe potente il persona ecco con quei punti aggiuntivi riaprire completamente il discorso di build ancora più belle ancora più potenti ancora più vari non è finita un altro dlc sempre a pagamento il cosiddetto digistract pick ha alzato il level cap da 61 a 72 e ha introdotto anche una modalità di gioco che solo a partire da quel livello 72 la potreste giocare anche prima una mega arena molto divertente effettivamente ma molto tosta per guadagnare ogni volta che la si completa e sarà sempre più difficile i livelli cosiddetti overpowered op da op1 a op8 magari vi sarà capitato di vedere qualche video con uno youtuber che giocava col personaggio livello istante 2 e le armi si leggeva 1 2 3 come fa? vuol dire che sta facendo tutto con la build? no perché quell'1-2 andava inteso op1 op2 quindi in realtà erano armi più potenti del livello istante 2 qui le molle sono due beccarsi altri gettoni skill per migliorare ulteriormente le proprie build e poi poter accedere e provare le arene immaginate cosa? per forza allora se il vostro obiettivo è di arrivare fino a 72 o addirittura op8 dovreste aspettare a prendere le missioni secondarie anche solo prenderle perché purtroppo il livello da ricompensa sarà poi fissato dal momento in cui le accetterete quindi proprio bisogna neanche accettarle lasciarle lì c'è qualche rare eccezione di oggetti che presi anche prima del massimo livello danno gliose benefici e sono utilissimi in certe build per arrivare ai massimi livelli vi dirò tutto o poi è chiaro che magari per vedere come sono le missioni secondarie ve le fate anche con un altro personaggio poi soltanto con quello con cui vi sentite più forti vi dite va bene con questo posso tentare i livelli op lì me le tengo infine la vostra carriera sarà lunghissima volendo l'ultimo dlc pagamento e qui qualche euro in più ve lo chiedono però ragazzi io sono sicuro che vi convincerò del fatto che vale la pena prenderselo l'illith è la battaglia per sanctuary il level cap arriva fino a 80 altri gettoni per le skill più altri due livelli op fino a 10 c'è da perdersi sì vi do una ricetta semplice fatevi il primo e il secondo pre-true cioè giocate due volte la storia senza prendere le missioni secondarie accetto quelle che vi dirò per le quali non fa differenza poi se vedete che nel menu vi appare la voce e vi mostrerò come per iniziare in UVHM vuol dire che ci siete in mezzo a quel punto iniziate la terza partita in UVHM e andate avanti finché vedete che il livello va su devo dire che dai 50 in poi gli XP che si guadagnano sono di meno e diventa davvero quasi una pena avanzare e lì saranno utilissimi i consigli su come fare farming rapido di XP e vi dico fin da subito aspettate a completare a battere il boss finale per la terza volta perché c'è uno dei modi che sembra molto efficace che è basato proprio su un glitch da fare proprio in quel momento che tirata sicuramente a qualcuno avrò cionfato le scatole come si dice però bisognava essere completi perché poi sono errori che si pagano il video è diventato troppo lungo poi diventa enorme anche da gestire sono giga su giga in 4k per cui mi fermo qui e il gameplay con i primi importantissimi consigli lo rimandiamo al prossimo a risentirci a risentirci a risentirci